Con la benedizione di Giuseppe Conte prende corpo una candidatura gradita alla parte governista dell'M5S di Milano. Sarà la manager Leila Pavone, amministratore delegato Industry Innovation di Digital Magics e consigliere d'Italia Startup, oltre che membro del CDA del Fatto Quotidiano, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Milano. Pavone è stata scelta ieri sera dall'Assemblea degli Attivisti, presente Giuseppe Conte, grazie al «Buageste» di Elena Sironi, avvocato civilista e già consigliera al Municipio 4, indicata l'11 agosto scorso dal gruppo degli attivisti milanesi. A dare la notizia la stessa Sironi, nella consapevolezza che il gruppo M5S di Milano mi avrebbe comunque sostenuta se avessi deciso di imporre la mia candidatura. Prima della votazione ho espresso il mio parere riconoscendo il valore aggiunto che Leila Pavone potrebbe portare in questa sfida elettorale ed ho lanciato l'invito ad esprimersi liberamente. All'Assemblea dell'M5S Milano con i candidati in ISTA, racconta ancora Sironi, dopo l'intervento di Giuseppe Conte e le sue risposte alle domande, vi è stata la presentazione di Leila Pavone con un lungo momento di confronto, al quale si è deciso di far seguire una votazione che ha dato un esito largamente favorevole al passaggio di testimone a Leila Pavone. Con la benedizione di Giuseppe Conte prende corpo così una candidatura gradita alla parte governista dell'M5S di Milano. Il movimento avrà quindi la sua frontrunner al primo turno del 3-4 ottobre dopo lo stop di Beppe Sala all'alleanza.